La sfogliatella fritta è frutto di un progetto che è nato 32 anni fa, quando abbiamo deciso di innovare un prodotto di tradizione che era la sfogliatella. Dopo tanti anni che abbiamo sempre cercato, meno male, di intervenire sulla parte interna della sfogliatella, oggi abbiamo deciso di intervenire sulla cottura della sfogliatella, perché la sfogliatella è sempre stata cotta nel forno se pensate di farla fritta. Chiaramente non è stata facile, perché prendere una sfogliatella e metterla nell'olio sarebbe stato facile, lo potrebbe fare chiunque. Noi abbiamo avvertito che all'inizio quando la mettavamo nell'olio purtroppo si apriva, al che abbiamo dovuto lavorarci vicino, comunque col tempo fortunatamente ci siamo riusciti pure in questa bella avventura. Quindi è un numero in più, una tua invenzione possiamo dire sostanzialmente? Sì, diciamo è una mia figlioccia, se la vogliamo chiamare così. Io sono incuriosito sempre da queste novità, premetto che io sono fra quelli che non ama il fritto, quindi mi avvicino sempre con grande cautela, ma non che non lo ami per via dei sapori, ma sono quelli purtroppo che posso mangiare le pietre e con il fritto invece ho qualche problema. Quindi dal profumo già mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un prodotto veramente delicato. Poi cuori di sfogliatella non ha bisogno di presentazioni, con la famiglia Ferriere abbiamo anche in passato realizzato delle cose davvero simpatiche per quello che voglio ricordare su tutti ovviamente la sfogliatella, quella papacella di Brusciano e il provolore del Monaco che realizziamo insieme. Tu sei anche un super esperto di enogastronomia, non a caso hai una straordinaria pubblicazione che tratta questi temi? Esatto, su Gazzetta dei Sapori ovviamente che è gemella con Sinapsi, viaggiamo insieme, e là ovviamente c'è una specializzazione maggiore su questi temi che oggi vanno molto di moda, per cui io voglio fare i complimenti a cuori di sfogliatella, cuori di sfogliatella che riesce a mettere tanta tanta innovazione in questo prodotto. Io odio un po' utilizzare le parole tradizione e innovazione, ma mai come nel caso della sfogliatella sono particolarmente azzeccate ed indicate, quindi ben vengano tutti questi tipi di sfogliatella, anche se poi io confesso, quando devo fare colazione vado sul classico con la mia riccia. Allora? È ottima, devo dire. Mamma mia! Un collega carissimo, tra l'altro esperto anche di enogastronomia. La fritta? Ma sicuramente la fritta, soprattutto per rivalorizzare il grande valore della sfogliatella riccia che forse a Napoli primeggia rispetto alla frolla. Una sfogliatella fritta che sembra innovativa ma che invece mette in risalto tutti i grandi gusti e la friabilità della tradizione di una Napoli senza tempo. No, io sono una delle poche che non l'ho ancora assaggiata. Sì, la sfogliatella riccia, un capriccio. Bravissimo!